Ultimamente mi sto fissando con Sonic e Poppy Playtime E questo penso proprio che chi guarda il canale se ne sia accorto Ma chi è dei due che fa più ridere? Bene, oggi faremo una prova a non ridere con le parodie più divertenti su Sonic E ho veramente paura di quello che potrebbe uscire Ma prima di iniziare mi raccomando voglio fare una sfida con voi Appena ridete dovete lasciare like e iscrivervi al canale E non dovete barare, mi raccomando Ovviamente ci sarà una penitenza per me E ogni risata, pam, schiaffo in faccia Iniziamo subito con il botto Ciao ragazzi, sono io, sono Nico Sono Sonic e il riccio Ciao, sono Tails e ciao, sono Knuckles Oddio, è quello... Oh madonna, ma che cavolo Dr. Eggman me lo ricordavo diverso Ok, a lui entra una mosca nell'occhio e viene sbattuto completamente via Ok, non sto capendo niente Niente può fermare il club Voglio provare Che cosa vuole provare? Che cosa vuole entrare nel club di Dr. Eggman Sei pazzo, Tails, sei pazzo Oddio Viene schiacciato e viene dato fuoco Non sto capendo ragazzi Questa animazione mi sta confondendo abbastanza Shadow Oddio, 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 oddio Gli ha urlato nell'orecchio e mi ha distrutto anche a me Non sto perdendo i capelli Sono Sonic Sonic e il riccio Sono il più veloce del mondo E allora... Ma che cavolo Ma che cavolo sto vedendo Ma quelle sono le lecce per le palle di Sonic Ma perché? Ragazzi, non mi dissocio completamente da ogni tipo di animazione che possiamo vedere quest'oggi Il vero Dr. Eggman Gli ha staccato un pelo Cioè ha veramente utilizzato un pelo per liberarsi dalle manette di alta protezione Come cavolo ha fatto? Ok Vediamo un pochino Ok Sonic è triste perché non può andare veloce Ma Dr. Eggman lo vuole diciamo consolare Dicendo tu andrai veloce Speriamo ragazzi Speriamo Vediamo come scappa Oh cavolo È stato È stato Aia Dr. Eggman è stato visto E non è andata molto bene Stanno combattendo fra di loro Chi avrà vinto non lo so però Ma veramente? Ma veramente? Ma si scherza? Oh mio Dio! Era lì dentro! Cioè lì stava scappando E giustamente che cosa fa? Va a prendersi un bello dog E trova la sorpresina Ovvio no? Ovvio Stiamo vedendo cose veramente strane Perché questo Sonic mi sembra? Non lo so Mi sembra il Grinch Blu Cioè Ditemi che non sembra un pochino il Grinch Guarda che gambe scolpite Che senerire il signor Sonic Ma poi è tutto storto Perché Oddio È diventato Willy Coyote Pip pip Si ferma Lavati un pochino i denti Caro Sonic Comunque è incredibile che cambia faccia ogni 5 secondi Come fa? Sembra una persona diversa ogni 2 secondi Ma che stai dicendo? Mi stai facendo impazzire Sei madonna mia che dentatura Sembra sembri veramente quei cavalli Sai Oddio Ma che cavolo Perché c'è Super Mario? Perché gli ha tirato un pugno in faccia? Questo è più che far ridere Mi stanno facendo impazzire Ok Odio le persone che dicono che non sono veloce Io sono Sonic Io sono velocissimo Ma che cavolo Non dovevo ridere Non dovevo ridere Rivediamo un attimino Dopo mi do lo schiappo E dovete lasciare like Perché non ci credo che non avete riso Prima cosa Perché gli si vede sedere? Per quale motivo le chiappe? Va bene Non mi farò domande Ma poi quello sta correndo E cale sul tavolo della mamma Ok È arrivato il momento dello schiappo in faccia 3, 2, 1 Mamma Iai ai ai Voi però dovete lasciare like e iscrivervi al canale Perché non ci credo che non avete riso nemmeno un po' Tutto normale no? D'altronde Che Sonic alla fine è un cartone così bello Così amorevole E poi ci sono questi video così strani Che lo rendono totalmente pazzo E questo? Oddio Ma Mamma mia ragazzi Mamma mia Wow Questo Gotta go fast Gotta go fast Questo è il famosissimo Sonic Hedgehog Lo conoscevate? Cioè per forza è ovvio Ma è proprio di questo Sonic Che ci sono tanti piccoli episodi Vediamoli Lui ha una pistola in mano È entrato E c'è Sonic Ma che cavolo? Ma no L'ha sparato No no Ma che cavolo Comunque ho riso di nuovo Mannaggia a me Aia Devo darmeli più piano a sti schiaffi Mi sto uccidendo Wow Sonic Nel bel mezzo di un'azione Sta per essere bombardato Ok Ma A me Non so perché Mi fa ridere Non so per quale motivo Cioè lui è fermo Parla con quella voce così strana È come se non stesse succedendo niente E poi alla fine c'è pure quella scorreggia Che rende il tutto ancora più magico È essendo dalla macchina con le scorreggie super soniche Si schiaccia a terra e tira un'altra scorreggia Lui si balla e viene anche investito Ma povero Sonic però È questo che è? Perché c'è il pannolino? Baby Sonic C'è un fiore in mano Non devo ridere Non devo ridere Riguardiamo Ok Ok ce l'ho fatta Ho resistito Ho resistito C'è una tartaruga E c'è Sonic La tartaruga sarà più veloce di Sonic Ah no Anche lei sparisce quando viene investita E lui nel frattempo si guarda le farfalle E non gli interessa assolutamente niente Da tartaruga No lui si guarda le farfalle Tutto normale È come se non bastasse Gara suprema Di Sonic Il gioco di Sonic È tutto così brutto e sbagliato Che lo rende fantastico Guarda Oh Ukand and Knuckles No vabbè ragazzi La copiata più pazza che abbiamo mai visto Ukand and Knuckles più Sonic Ma perché quello è un Sonic Pikachu Che si stanno buttando Oh mio dio guardate quanti cici della muerte Wow Dottor Eggman Party time dice È il momento della festa Non vedo cosa ci sia da festeggiare Qua sono tutti pazzi sgravati Gli ha tirato un cazzotto Sonic Oh Ukand and Knuckles L'ha schiacciato col suo possente sederone E poi No No Fermo Fermo Che vuoi fare Fermo Che cosa vuoi fare No 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 Non puoi fare Ma che cavolo Oddio Sonic Si è schiacciato Ok Ok Va bene Si rialzo No non scorreggiare Ti prego No che schifo Perché c'è il culo che parla Non capisco Adesso l'hanno schiacciato tutti Sono veramente confuso ragazzi Non smetterò mai di dirlo Ok adesso l'ho incazzato Va bene Loro tre saltano E fanno mossa suprema tripla E continuano la corsa E ora hanno liberato Degli scogliattoli Penso Non me l'aspettavo Un baby Yoda Bass boosted Ok E questo che è Ma L'evoluzione di Sonic.exe Ma non fa rin Cioè oddio Non lo so Però vediamo Vediamo 2014 Ok Ok 2014 è così Interessante Interessante 2020 Wow Questo penso sia un edit del film Eh si Voglio vedere il 2022 Eventi riesce anche quello Che figata Non ho mai visto Sonic.exe così in 4k Bellissimo Oh mio dio Questo è il vero Sonic Nel 2100 Che grafica pazzesca Incredibile Ha tirato uno schiaffo Meme del Pikachu Oh Carago Fest Si Fammi vedere la tua potenza Basta Basta Sto Sonic Me lo sognerò la notte E' troppo brutto Mmm Addirittura Si guarda allo specchio Eh Giustamente Deve dirsi quanto è bello Guardi non c'è bisogno Te lo dico io Tranquillo Tranquillo Fratmo Sei proprio Bello Dovresti un pochino Aggiustare la camminata Vabbè Se questa camminata Ti permette Di oltrepassare Le cose Non c'è problema Va bene Ottieni di questa camminata Mmm Mmm Ma È diventato Un pesce Spada Cioè non lo so Come cavolo si chiama Un pesce a martello Non lo so come si chiama Scrittemi nei commenti Lo ha minacciato Lo ha proprio minacciato Con questo suo fare Particolare Snodabile E adesso può continuare A camminare Senza muoversi E c'è il dottor Eggman Anche lui Un po' Un po' strano Un po' strano Non voglio dire Che sia brutto Ma forse Un po' diverso Dal solito Eh Permettetemi di dire così Si Ok L'ha sgozzato Lui le macchine Non le trapassa Strano Strano Non l'avrei mai detto Devo imparare Che non devo parlare Prima del dovuto E adesso lo stai inseguendo No Lo sto facendo cadere Le faccio per terra Oh mio dio E adesso può tornare giù Sì Go to go fast Bello Ragazzi Questa è la velocità Questa è la vera velocità Oh no Uno di uno Tra i due Sonic Chi è il più strano? Oh Sei così bello Oh mio dio Siete Si stanno innamorando Ragazzi Si stanno innamorando L'amore tra i Sonic Può nascere Certo che c'è questo Sonic Che ha gli occhi rossi Che sembra un po' Fattone Eh un po' Un po' Un po' Un po' Sì Please Fermati Ti prego Hai un bellissimo nome Salva il mondo Se ne vola via Lui è rimasto un po' Perplesso No No È triste È triste Oddio Oddio Perché si è messo così Ma che cavolo è Madonna Basta 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 Che Prendiamoci lo schiaffo finale Che me lo merito Ci vediamo in un prossimo video E ciao ragazzi Bye Bye Bye